E' arrivata la sua quindicesima edizione, la mostra Mercato e Maestri del Legno, che si è svolta a Badia Prataglia domenica 13 agosto. Una iniziativa proposta dall'ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, in collaborazione con il Comune di Poppi e il Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo. Una manifestazione che nasce come proseguo del lavoro di ricerca e di contatto con la popolazione locale ed in particolare con le tradizioni artigiane di questo scorcio di appennino. Non sono solo persone di Badia che lavorano in legno, che sono presenti in questa iniziativa, ma persone che vengono anche da lontano e che sono legate a questa materia prima della foresta. Infatti il legame con il bosco è importantissimo. Un modo quindi per riscoprire il forte legame con la natura che Badia Prataglia esprime, soprattutto per essere il centro più popoloso all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Badia Prataglia è il centro più popoloso del Parco Nazionale e in quest'estate stiamo riscoprendo un buon afflusso di turismo. Questo dovuto soprattutto alla promozione che fa il Parco Nazionale che ci aiuta a rilanciare l'immagine di Badia Prataglia come posto turistico per la Toscana e il centro Italia. Un'importante novità di quest'anno che è arrivata proprio nel mese di giugno è l'accettazione da parte dell'UNESCO, del riconoscimento di patrimonio mondiale dell'umanità, della foresta di Sassofratino e delle foreste biogenetiche che circondano il sito stesso. Questo è sicuramente uno sviluppo, un possibile volano di sviluppo per il nostro territorio che cercheremo di sfruttare e ringraziamo il Parco Nazionale per quest'opera importante che darà sicuramente un'arma in più alle attività di Badia Prataglia. Grazie.